Secondo turno in frasettimanale nel campionato di Lega Pro. Dopo le scintille della nona giornata e tempo di derby al San Nicola e che derby! Il Bari attende il Foggia di Zeman, una sfida sentita sia nell'ambiente bianco-rosso sia in quello rosso-nero ed entrambe sono reduci da due belle vittorie. Previsto spettacolo del pubblico, delle grandi occasioni. Al Francioni il Catanzaro vaccace del poker, dei successi di fila. Calabro contro Didonato, i Pontini sono in crisi e nelle ultime cinque hanno perso ben quattro volte. I calabresi partono favoriti. All'ottore la Paganese per riscattare il momentaccio che la vede sconfitta da tre partite consecutive. Grazie a Donia sembra aver perso la bussola. Il Potenza invece, dopo il K.O. contro il Messina, vuole subito ripartire. Al Viviani il Picerno, carico a Pallettoni dopo il successo di Castellammare contro il Monterosi, vuole svolcarsi anche tra le Muramiche. La compagina di Palo, da circa un mese, non brinda successo casalingo. Quella laziale di Mister D'Antoni, dopo le tre vittorie di fila, ha voglia di continuare a volare. Inizia il Veneziani l'era in bimbo, la Juve Stabia a Monopoli per ritrovarsi. Le Vespe, dopo l'inatteso stop interno con il Picerno, vogliono scuotersi. I Gabbiani, una vittoria nelle ultime quattro, hanno smarrito la verve d'inizio del campionato e Starita ha smarrito la via del gol. Derby allo Iacovone, il Taranto ospita la Fidelisandria di Ciro Ginestra, che ha stoppato l'Avellino nell'ultimo turno. I rossazzuri della terza, dopo lo scivolone di Catanzaro, sono scalati all'ottavo posto in classifica. I Leoni vanno in terra Ionica per vincere e abbandonare invece l'ultima, Piazza. Al Barberi, il Palermo contro il Francavilla per dimenticare la domenica amara del Liguori di Torre del Greco. Il Rosanero, partiti come una delle favorite dell'inizio stagione, arrancano e non hanno continuità. I Virtussini, invece, otto punti nell'ultima e cinque, vogliono continuare a scalare la vetta della classifica. Al Liguori, secondo impegno consecutivo interno per la Turis di Caneo, arriva il campo a basso dei Cudini. I Corallini, miglior attacco del campionato e terzi in classifica, con Leonetti, Giannone e Santanillo in forma strepitosa, avvisano i Lupi Molisani, vogliosi di riscatto dopo il capo interno del nuovo Romagnoli contro il Bari.